gentili telespettatori buona giornata nel video precedente parlavamo dei conti alla fine arrivano i conti da pagare salvini con il suo comportamento non proprio gentile e rispettoso verso la ex alleata giorgia meloni sempre fedele ha avuto il suo conto oggi è arrivato al 16 per cento è sceso al 16 per cento ha perso due punti percentuali e giorgia meloni ne ha guadagnati 2,2 oggi arriva anche il conto per giuseppe conte l'ex l'ex due volte premier l'avrà scritto anche nel curriculum credo a lui se avete lui ci tiene il curriculum la guardia di finanza a casa del presidente del movimento 5 stelle nel mirino fatture e consulenze al gruppo acqua marcia nel mirino acqua marcia vi ricordate no quella che c'è anche in borsa acqua marcia ordinarie le fiamme gialle hanno suonato a casa dell'ex premier giuseppe conte lui ha risposto sì siamo la guardia di finanza credo che a conto gli sarà venuto un brivido lungo la schiena i militari con un mandato di perquisizione firmato dai giudici sotto la lente di ingrandimento finiti contatti di consulenza stipulati con il gruppo acqua marcia finito poi fallito secondo il quotidiano domani la finanza perquisito la casa del leader del momento cinque stelle alla ricerca di fatture per 400 mila euro secondo emiliano fittipaldi del quotidiano domani e anche secondo il giornalista giovanni tizian la perquisizione sarebbe avvenuta qualche settimana fa nello studio appartamento in via della fontanella borghese il nuovo fascicolo di indagine e ad oggi senza indagati ed è arrivato alla magistratura romana alla magistratura alla magistrata magistrato maria sabrina calabretta dalla procura di perugia anche pino dei palazzi si chiama calabretta vero una piccola parentesi comica no pino dei palazzi comico di zeligan che lui si chiama calabretta vabbè andiamo avanti il magistrato calabretta che da mesi indaga sulle dichiarazioni di piero amara circa l'esistenza della cosiddetta loggia ungheria amara mi viene in mente cozza amara vi ricordate il film di benigni cozza amara il suo rivale cozza amara ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo su questa nostra bella politica perché questa politica è bella è alta è di una morale così incredibilmente alta bene diciamo che non deve essere stato piacevole ricevere la guardia di finanza a casa che ti tiro vista dappertutto beh la circostanza racconta che i militari avrebbero acquisito la documentazione relativa alle consulenze quindi hanno trovato le fatture da 300 400 mila euro ma non tutte pagate svolte da conte per le società di francesco bellavista caltagirone secondo quanto racconta il quotidiano domani i finanzieri poi si sarebbero recati anche da guido alpa anche lui a consulenze per la ristrutturazione del debito dell'imprenditore avvocato avvocato accademico e maestro dell'ex presidente del consiglio e presso altri studi legali il giornale domani spiega che sarebbe stato aperto un fascicolo 44 senza indagati rivolto userebbe una parte dell'inchiesta derivante dalle dichiarazioni dell'impianto di terrore piero amara riguardanti l'esistenza presunta di una loggia ungheria bene bene male non so ditemi ditemi voi cosa ne pensate intanto passiamo ad altre notizie la leader di fratelli d'italia sta sondando la base su alleanze future si sta chiedendo ai suoi militanti elettori che cosa ne pensano su quello che è successo sulle eventuali alleanze future dice giorgia meloni ma non era meglio gianni letta di mattarella io vi rispondo ovviamente la russa dice salvini si prenda una pausa una pausa di riflessione e così arriva il sondaggio per calibrare la strategia il timore che il voto per sergio mattarella possa prefigurare la nascita di una maggioranza politica l'esigenza di una pausa di riflessione dentro il centrodestra e sì salvini dovrebbe prendere una pausa di riflessione definitiva dovrebbe lasciare la politica e dedicarsi ad altre attività non so io lo vedrei bene come ristoratore me lo vedo bene col grembiule con scritto salvini premier trattoria salvini premier no dal senatore è trattoria dal senatore salvini premier lui che accoglie i clienti il locale sempre pieno perché farebbe un sacco di soldi una trattoria dove fa polente usei non lo so vi fa gli spaghetti all'altotesina oppure non so pizza roma ladrona la lega non perdona oppure non so insalata alla padania e poi potrebbe fare un altro piatto che possiamo inventarci no non so gli spaghetti gli spaghetti alla po poi c'era carne alla carne all'agemonio varese vabbè insomma me lo vedo bene come come ristoratore da salvini il senatore andiamo prenotiamo da salvini il senatore ma ci sarà lui a volte non c'è però ti accoglie nel locale bene grazie a tutti e buon proseguimento di giornata e prenotate nella trattoria salvini premier arrivederci a tutti e grazie